Si è svolta la presentazione della terza edizione del Festival di Primavera che si terrà dal 18 al 21 aprile a Calcinelli di Colli al Metauro, evento organizzato dall'Associazione dei Colli con il patrocinio del Comune e con la partnership tecnica di Ultrasound Eventi. Da giovedì a sabato la location sarà a Piazza dal Metauro davanti alla delegazione comunale, la domenica invece si estenderà anche nella parte centrale della Flaminia coinvolgendo via Marconi, Piazza Pio Franchi e via Rossini. Tre serate programmate per degustare le tipicità del territorio che saranno preparate dalle associazioni pro loco e ristoranti della zona e tanti spettacoli di vario tipo adatti a tutte le età. Ricco il programma che comprende anche iniziative che rendono partecipi le scuole e i più piccoli e tanto altro. Una festa importante di coesione, condivisione, lustro e risonanza per il territorio è molto sentita dalla comunità. Quali saranno gli eventi clou di questa festa? Il Festival di Primavera quest'anno si sviluppa in quattro giornate, giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 che è concentrata dalle 18 alle 24 dove è possibile degustare di fronte alla delegazione comunale chiamata Calli Food i piatti tipici locali della zona con ogni sera caratterizzata da spettacoli di carattere diverso. Abbiamo DJ, abbiamo salse merenghe con Kiko in ritmo latino, abbiamo il revival anni 70-80-90 di Mark Loren e DJ Grifo Voice e la domenica invece occupa uno spazio molto più ampio dove oltre agli hobbisti che esporranno lungo la famiglia, le associazioni e le scuole dell'infanzia, la scuola primaria che esporranno in piazza, abbiamo degli itineranti che sono la Pandolfaccia di Fano, abbiamo Schizio JF di Zeligoff e poi avremo in piazza come spettacolo conclusivo Dado, Dado a tutto tondo che proporrà alcuni sketch che hanno visto sicuramente in televisione e che intratterrà per circa un'ora tutti i partecipanti. Dopo lo spettacolo di Dado riprendiamo con gli stand gastronomici in piazza dal Metauro e anche qui la serata sarà caratterizzata dai DJ locali che sono Mark Loren e Grifo the Voice. E ci sarà anche un concorso? Un concorso sì che è aperto ormai da circa due settimane e questo concorso può partecipare sia il cittadino di Colli al Metauro ma anche il commerciante mandando una semplice foto della vetrina o del balcone o del giardino alla nostra pagina facebook ufficiale Associazione dei Colli e poi all'ultima giornata del festival di primavera verranno fatte le premiazioni quindi primo, secondo e terzo posto. Partecipate aspettiamo ancora le vostre foto. Il programma è ancora lunghissimo e per tutte le info potete scaricare il programma su Facebook e Instagram Associazione dei Colli.